Questo gioco è il lezzo, è il lezzo, è proprio un cranello di marta, questo è sto pizzetto da gru, è un, cosa, ESL, ESL, Electronic Sports League, sempre più seri, è sempre più seri, proprio come, come azienda, come immagine ad adottare giochi proprio ad alto tasso di competitività, proprio, guarda.